Siamo nella casa del Manzoni, lui ha vissuto fino a 88 anni, devo dire che per quell'epoca era veramente tantissimo, potremmo dire un centenario di oggi. Oggi infatti si vive molto di più, non so se è noto ma noi siamo il paese più vecchio al mondo dopo il Giappone. Abbiamo la penetrazione di 65 anni più alta sul totale della popolazione e io credo che la tecnologia e la digitalizzazione possa dare un forte contributo al contenimento delle spese sanitarie. Se infatti viviamo di più dobbiamo anche inevitabilmente curarci di più. Pensiamo che le malattie possano avere una fase cronica in cui non si debba per forza essere in ospedale ma ci si debba e possa curare stando a casa. Pensiamo che oggi in uno smartphone ci sono una certa quantità di sensori, prendiamo alcuni di questi sensori e pensiamo di indossarli e poter dare in questo modo una quantità importante di informazione al nostro medico che sta a distanza e magari non solo un medico ma anche un software che li analizza e può in questo modo poter capire come sta evolvendo la nostra malattia. Pensiamo inoltre che tutto questo può avere un checkpoint saltuario fatto attraverso una telepresence quindi non fisicamente col medico presente ma visto remotamente. Serve evidentemente avere questo contatto col medico perché questo aiuta moltissimo ad avere confidenza ma tutto questo potrebbe già di per sé abbattere notevolmente le spese sanitarie a rendere notevolmente più produttivo il lavoro del medico. Inoltre ci sono alcune attività come per esempio quella di dover reintegrare dei farmaci che sono spesso delle attività a basso valore che potrebbero essere automatizzate. Ci sono oggi dei contenitori di capsule che sono in grado di dirci quando siamo nella condizione di riserva mandare automaticamente un'indicazione al medico che le prescrive nuovamente. La ricetta non viene spostata fisicamente in una farmacia ma elettronicamente e la farmacia ci può dire semplicemente quando è il momento per andare a ritirare questo farmaco. Questi sono dei piccoli esempi di come sicuramente grazie alla tecnologia e alla digitalizzazione possiamo aiutarci nel cercare di vivere più a lungo e contenere le spese sanitarie.